In collaborazione con Zenobia Parrucchieri via Isonzo 1Q Montevarchi Ciao Lucia, sono venuta a fare delle prove per la mia acconciatura dato che oggi non c'è Angie quindi volevo fargli una sorpresa e volevo sapere se mi potevi consigliare qualcosa Certo, possiamo fare una prova, possiamo vedere quello che insomma mi spiegherai il tuo amico le varie cose che si fanno a tutte le spose Ok, si può fare qualche prova, vuoi accomodare? Sì Senti, io ti consiglio di fare questa prova in base a, chiaramente tutto faremo in base anche all'abito che hai, mi farei vedere l'abito con una foto dell'abito e ti consiglio in base al tuo viso dei volumi, un effetto mosso, un qualche accessorio per esempio di aver pensato a un fiore del genere che è vicino al tuo bouquet, Rosa e comunque ti facevo anche vedere in questo book quello che ti potrei proporre, una cosa simile molto più morbida, chiaramente il tuo viso mi sembra sia adatta a questo e niente, te sai che le racconciature da sposa sono molto, diciamo, devono essere molto vicine allo stile di una persona, alla sua personalità, oltre allo stile sì dell'abito o devono incorniciare il viso, dobbiamo molto guardare i colori degli occhi, della pelle e nel tuo viso ci vedrei una cosa molto romantica, molto uno stile sissi, diciamo con il suo accessorio in base all'abito che mi hai detto che hai e che vedremo stop, look and listen, baby, that's my philosophy it's called rub and packing, baby, but that's alright with me stop, look and listen, baby, that's my philosophy vedi bene, Leonora, quello che ho fatto, non so se ti piace, possiamo anche fare un'altra prova ma questo che ho ideato in questo momento, diciamo, per te, per quello che mi hai indicato l'abito e vedendo il tuo stile, la tua personalità, il tuo viso, i tuoi occhi e appunto il tuo abito, il tuo tessuto ho pensato bene di fare questo tipo di approva, questo tipo di acconciatura allora Leonora, io penso che questa sia data al giorno del tuo matrimonio se non c'hai nessun problema, ci rivedremo per il giorno stesso sì sì, tanto ci rivedremo perché l'acconciatura è molto bella quindi sono molto soddisfatta e mi piace molto in collaborazione con Zenobia Parrucchieri Via Isonzo 1Q Montevarchi Grazie a tutti